La 38esima rievocazione della mille miglia storica a Brescia fa i conti con le restrizioni anti-Covid. Pierluigi Ferrari. In Piazza Vittoria a Brescia proseguono i preparativi per la 38esima mille miglia rievocativa della storica Freccia Rossa rinviate in primavera per il Covid prevista per giovedì, ma sotto stretta osservazione, tavolo permanente in prefettura a Brescia. Ad oggi la mille miglia si fa, ad oggi con le limitazioni che il Comitato ha stabilito. Ci siamo dati un appuntamento a martedì perché l'evoluzione del Covid naturalmente necessita di un altro punto della situazione prima della partenza. Il protocollo stilato nei mesi scorsi prevede rigorose misure di sicurezza, limitato il numero degli accrediti, in Piazza Vittoria al massimo 600 persone, tagliati i pass per 1200 fotografi privati, tamponi per tutto lo staff e i partecipanti provenienti dall'estero, autocertificazioni, temperatura e conteggio delle persone in tutti i punti di sosta e di controllo e la prefettura di Brescia ha tagliato i passaggi nei centri storici della provincia per evitare ogni rischio di assembramento. La partenza che adesso non potrà essere più così, la partenza verrà sempre da Corso Venezia, ma poi girerà su Via Piave e uscirà dalla città immediatamente. Da lunedì le 400 vetture iscritte dovrebbero arrivare alla fiera di Brescia, prevista pioggia ma il meteo stavolta per gli organizzatori. È l'ultimo dei pensieri.